Trieste, un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 22.20 in via Dalviano, incrocio via Di Sella davanti alla sede dei vigili del fuoco coinvolti un'auto e uno scooter. Sarà davvero la peggio è stato lo scooterista che è stato trasportato dal personale sanitario a Cattinara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area del sinistro e dei mezzi incidentati e la polizia locale. Mossa, l'occasione per salutare Alessandro Scoria, anzi per l'ultima volta, verranno celebrati domani alle 11 nella chiesa parrocchiale Sant'Andrea Apostolo di Mossa i funerali del dentista trovato morto nella sua abitazione di via Brigata Rea Lucinico ad ufficializzarlo Don Mori Stonso, parrocco di Mossa, non c'è che in attesa dell'esequie. Oggi alle 18 ci sarà la recita da Rosario, si è potuto stabilire, date ora dei funerali dopo che la Procura della Repubblica, una volta effettuata l'autopsia, ha dato il nulla osta all'effettuazione dei funerali. La diminuzione del carburante venduto in forma agevolata nel 2020 rispetto all'anno precedente e contemporaneo aumento di quello venduto a prezzo pieno, un andamento che riflette gli effetti della pandemia, tra cui l'abbattimento della mobilità delle persone causata dalle chiusure e l'impossibilità di recarsi in Slovenia per il pieno. Questo è il dato che emerge dalla relazione sullo stato di attuazione della legge sullo sconto carburanti approvato dalla Giunta regionale e sovrapposta dell'assessore alla difesa dell'ambiente e all'energia del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scocci Marro. Linea a Udine. Si è spento a Milo il cantoautore siciliano Franco Battiato. L'ultimo album, con il brano Scalo a Grado, è un omaggio al Friuli, con cui il cantoautore aveva un legame speciale. L'album, infatti, riporta la copertina dedicata alla spiaggia di Grado. Importante e indimenticabile per tutti i suoi fans, l'ultimo concerto a Palmanova nel 2017. Battiato viene ricordato come un grande artista della musica italiana, un vero genio che ha saputo unire spiritualità e parole d'amore, che ha sperimentato la canzone d'autore, la musica etnica e l'opera lirica. Il brano, torneremo ancora, nasce proprio dalla consapevolezza che siamo tutti esseri spirituali in cammino verso la liberazione. Addio, maestro, in volo ora verso mondi lontanissimi. Sabrina Cicotti per Radiodiffusione Europea. Ed ora la redazione di Venezia, Massimo Bonella. Sputano in faccia l'anziana che li aveva invitati a tirare sulla mascherina. Succede a Verona a causa di due giovani uomini. Secondo quanto ricostruito, gli sputti sono partiti verso l'anziana perché quest'ultima li aveva invitati a mettere la mascherina. I due sono stati denunciati. L'odioso gesto è avvenuto mentre i responsabili stavano viaggiando con la donna su un autobus di linea. Il fatto non è avvenuto oggi, ma qualche settimana fa. E la cosa è ancora peggio in ottica pandemica, ma è stato reso noto solo oggi dalle forze dell'ordine. Si allarga il fenomeno della moria di topi che non riguarda solo Revine del Lago. Decine di carcasse sono state rinvenute anche nel comune di Vittorio Veneto, come ha spiegato il sindaco Antonio Miatto. Sono arrivate segnalazioni ed alfa d'alto e non solo. Il primo cittadino si sta occupando personalmente della vicenda. Alcuni campioni provenienti dall'area del fa d'alto sono stati consegnati alla sezione trebigiana dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Riapre da sabato 22 maggio il Museo dell'Isola di Torcello nella Laguna di Venezia ed è pronto ad accogliere i visitatori nelle due sezioni espositive. Per questo primo fine settimana di ripartenza in forma a San Servolo Servizi, società in house della città metropolitana di Venezia. L'ingresso sarà gratuito ma con obbligo di prenotazione che va effettuata telefonicamente entro le ore 18 di venerdì 21 maggio via telefono o via e-mail. Ed ora veniamo ai gondolieri in azione a Venezia. Persino un motore fuori bordo, oltre ai soliti pneumatici d'auto in grande quantità usati come parabordi dalle imbarcazioni, poi bottiglie e lattine di plastica insieme a una poltroncina girevole da ufficio e una scultura in vetro finita chissà come in fondo ad un canale, poi tubature idrauliche, un gasatore di bevande frizzanti da bare, persino un rotolo di guaina edile. Le acque della Laguna hanno restituito circa 400 kg di rifiuti, tra redamento, scarti di cantiere e della vita di tutti i giorni. Una gran quantità di spazzatura accumulatasi sul suo fondale nel corso degli anni, contribuendo a inquinarlo e ad intorbidirne le acque. Il materiale è stato ripescato grazie all'opera volontaria dei gondolieri sub che si sono immersi nel pomeriggio dell'altro giorno, nonostante la pioggia. Massimo Bonella per Radiodiffusione Europea. Treviso, Rosario Moreno. Tappa trevigiana per Valentina Ferragni, pranzo alla terrazza, Sant'Omaso, per la sorella della più nota influencer Chiara. Operaio morì in distilleria, processo il re delle grappe. L'imprenditore bassanese Angelo Nardini è stato rinviato a giudizio per la tragedia che nel settembre 2017 alle distillerie Monastier costò la vita a Lorenzo Brisotto. Muore folgorato da una scossa elettrica in casa. La tragedia a Maserata di Piava. Perdere la vita, Valeriano Fragonese, aveva 57 anni. Treviso, studenti al lavoro per ritinteggiare gli uffici della Polizia Stradale. I ragazzi del terzo anno della scuola Edile hanno imbiancato il comando e realizzato l'araldico della Polizia di Stato arricchito prendendo spunto dalle bellezze della città. Rosario Moreno per Radiodiffusione Europea. Appuntamenti in Friuli, Venezia, Giulia. Presentazione della versione rinnovata del logo di UnityS alle 11.30. Alle 18.30 conferenza online del Centro Culturale Veritas i russi a Trieste dal Porto Franco alla Grande Guerra relatrice Marina Rossi, storica docente ricercatrice a Trieste su Zoom e sulla pagina Facebook del Centro Culturale Veritas. Alle 10 la cerimonia di consegna dell'opera Logio de Dios donato da Asugi dall'Ilt Trieste. Interverranno il direttore sanitario di Asugi, Andrea Longanesi, la coordinatrice regionale di Lilt FWG, Bruna Scaggiante, la presidente di Lilt Trieste Sandra Dudine, l'assessore comunale Francesca De Santis, l'arta terapeuta Francesca Salcioli. BCC Saranzano Villesse, Sala Teresiana via Roma 20, alle 10.30 la presentazione del progetto Trieste Europa finanza sostenibile, la grande opportunità. All'antico Caffè Libreria San Marco di Trieste alle 11, Trieste Book Fest dedicato al tema Venti di Libertà, ospiti della giornata Matteo Bussola, Tommaso Montanari, Andrea Antoni e Cristina Amato. Al terminal passeggero del Moloquato alle 15.30, l'inaugurazione di un nuovo centro vaccinale, interverranno Antonio Poggiana, direttore generale della Asugi, Tiziana Benussi, presidente di Fondazione CR Trieste, Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, Ricaldo Riccardi, vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Alla Basilica di Santa Maria Assunta di Aquileia alle 16, l'evento Vaticano Laudato Si, First Health for All, una salute per tutti, organizzato dalla Commissione Vaticana COVID-19 del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, in collaborazione con l'associazione Mitele Europa, collegamenti in diretta con Berenice King, Sharon Stone e Tawakol Carman. A Trieste, in Sala Bartoli, del Politiama Rossetti alle 18, incontro il talento delle donne, testimonianze eccellenti, protagonista è la manager di Generale Cristina Bacchini, Barbara Franchin, fondatrice di TS, l'imprenditrice Giannola Nonino, la dottoressa Serena Zacchigna dell'ICJab, l'assessore Tiziana Gibelli e l'assessore Serena Tonella, la modera al dibattito, la giornalista Marinella Chirico. Gorizia, Sala Bianca del Comune, Piazza del Municipio 1, alle 12.30, conferenza stampa di presentazione del calendario delle prossime attività dell'Istituto per gli incontri culturali Mitele Europei di Gorizia. A Gradisca di Sonzo, Galleria Regionale d'Arte, contemporanea Luigi Spazzapan, alle 18, presentazione della mostra alla San Marco, cent'anni di design per il caffè, organizzata con il supporto dell'Airpac FWG. presenti il sindaco di Gradisca di Sonzo, Linda Thomas Insig, l'assessore Marco Zuanolla, i rappresentanti Airpac e Roberto Nocera, amministratore delegato la San Marco. Sul Friuli Venezia Giulia, piogge abbondanti, localmente anche temporalesche, nevicate oltre 1.300-1.500 metri circa, specie sulle Alpi Giulie, sulla costa Bora da moderata a sostenuta. Nel proseguo della giornata, cielo da poco nuvoloso a variabile, ma dal pomeriggio è possibile ancora rovescio locali temporali. Temperature in pianura minime fra 9 e 12, sulla costa fra 10 e 13 gradi, le massime fra 16 e 19 gradi centigradi. Passiamo al Veneto, variabilità nelle primissime ore, molte nubi dal mattino, rasserenamenti anche ampi, in cui di seguito alcuni addensamenti nuvolosi, alternati a significative schiarite, temperature, le minime, subiranno contenute variazioni di carattere locale, saranno raggiunte alla sera, le massime in genere in diminuzione, venti in quota moderati, dei quadranti settentrionali, temporaneamente anche tesi, nelle valli deboli con direzione variabile, in pianura direzione variabile, intensità a tratti debole, a tratti almeno localmente moderata, mare nelle prime ore da poco mosso a mosso, e in quelle diurne anche molto mosso a sud, specie a largo, infine poco mosso, anche quasi calmo a nord, in serata. Passiamo alle previsioni per Istria e fiume, parzialmente nuvoloso, a metà giornata addensamenti, con piogge locali rovesci, soffierà tramontana, da debole a moderata, mare da poco mosso a mosso, minime e massime stazionarie. Per l'informazione per il momento è tutto, alla prossima! Quando fare notizia è pura passione, Radio Diffusione Europea.